eccoci, ci siamo alla seconda intervista di Little Makers oggi abbiamo l'onore di avere un ospite che penso abbia avuto più esperienza in diversi campi al mondo è andato persino nel cinema e per poi dopo diventare praticamente il socio dell'algoritmo di TikTok abbiamo l'onore di avere Michele De Monte, benvenuto ciao a tutti quanti, grazie mille Alessandro per avermi qui come tuo ospite per me è veramente un onore, grazie mille bene Michele, molti magari già ti conoscono ma molti anche no, immagino quindi facci capire bene cosa fa la tua azienda e perché sei famoso per essere il socio dell'algoritmo di TikTok ok, ok, va bene allora adesso quello che è il mio lavoro, quello che offro come azienda appunto sono servizi legati al mondo di TikTok, quindi trasferisco le mie competenze e insegno alle persone come crescere come posizionarsi su TikTok e poi come dire conseguenza come guadagnarci quindi sia che tu voglia diventare un influencer oppure sia che tu voglia creare i tuoi business oppure li hai già, li voglio espandere questo è quello che faccio attualmente oggi ecco e da quanto sei attivo nel mondo di TikTok? è un anno e mezzo praticamente praticamente la tua azienda cosa crea? Corsi o è un percorso, com'è che funziona? sì sì sì, ci sono sia corsi, quindi sia una parte dove le persone imparano in modo autonomo una community dove do supporto alle persone, non le lascio mai da sole, le seguo e do dei consigli personalizzati e poi invece per chi vuole un percorso molto più strutturato e personalizzato invece faccio anche delle consulenze private e adesso in quanti siamo nella community di TikTok Master? adesso c'è stato un po' di calo estivo però di iscritti attivi siamo in 280 ho capito e quanto tempo hai fatto tutta questa crescita su TikTok? perché comunque TikTok è un canale che è nato, se non erro, pochi anni fa e durante la pandemia del 2020 ha avuto un boom quindi in che momento sei entrato e quando è che hai avviato poi questa attività? allora io sono entrato in TikTok perché l'ho scoperto era pandemia, è appena iniziata o metà marzo o fine marzo insomma i giorni più o meno erano quelli tempo due settimane per capire TikTok ha potenziale oppure no? cioè ci si può sviluppare qualcosa? la risposta è stata sì, nonostante tutti facessero trend balletti e cavolate io ero lungimirante, avevo già capito e poi da lì ci ho messo tre mesi a studiarlo con vari profili che ho eliminato nel frattempo facevo un sacco di test per capire come funzionava e poi esattamente il 17 giugno 2020 ho aperto questo mio profilo ufficiale dal quale mi conoscete tutti quanti quindi in un anno e due mesi ho fatto 112.000 follower insomma ecco complimenti, davvero numeri penso invidiabili da praticamente chiunque grazie mille una cosa che secondo me interessa a tutti capire è chi è Michele De Monte, da dove arriva da dove nasce, no non da dove nasce ovviamente da dove arriva, cos'è che l'ha portato fino al mondo di TikTok che avvia un percorso imprenditoriale nel mondo dei social che adesso comunque gli permette di vivere e comunque crescerà ancora in futuro e speriamo che ci condividerai molti più giornamenti quindi facci capire da dove inizia perché io ho sentito anche che avevi iniziato a lavorare nel cinema quindi penso che sia una storia da raccontare lascio la parola a te assolutamente sì parte insomma un po' dagli albori diciamo allora Michele fin da adolescente, da ragazzino appassionato di informatica internet, giochi online quindi già nel mondo informatico computer c'ero la mia più grande passione comunque però mi sono diplomato in ragioneria quindi ho fatto le superiori diplomato in ragioneria e lì ovviamente lì per lì per tre anni e mezzo ho fatto il dipendente in diversi studi commercialistici più o meno ogni otto mesi, un anno cambiavo studio perché non trovavo l'ambiente giusto per me e quindi insomma cambiavo studio come è che prendevi la decisione? adesso te lo dico volevo fare un'anticipazione che io sono una persona che non sta mai ferma non riesce a fare una cosa alla volta nel frattempo stavo già facendo altro che adesso vi dico però come prendevo appunto la decisione di cambiare studio in realtà era molto semplice da una parte era molto emozionale la scelta come tutte quelle che facciamo nel senso che iniziavo a non sentirmi più a mio agio stressato, pressato dal datore di lavoro e veramente cioè non riuscivo più neanche a godermi il weekend o il fine serata perché la testa era sempre proiettata sul oh mio dio lunedì riprendo a lavorare il concetto era questo e quindi io le mie scelte come le prendevo significa rat race esattamente esattamente la cosa del topo del topo esattamente e quindi come prendevo le mie scelte in realtà era molto semplice io presentavo la lettera di dimissioni al datore di lavoro e dopo che veniva accettata ed era ufficiale che io da lì a di solito i 20 giorni di preavviso avrei lasciato il lavoro siccome vivo ancora con i miei genitori tornavo a casa da mamma e dicevo mamma mi sono dimesso basta punto cioè io ho sempre detto e fatto le cose quando sono già state fatte quando sono già state scelte non sto lì a a come dire dire in anticipo sai mamma ho intenzione di dimettermi perché questo 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 no perché perché poi le altre persone qualunque se siano ti influenzeranno nelle tue scelte invece devi essere sempre tu a prenderle e questo è una cosa che mi ha sempre accompagnato nella mia vita però non hanno mai avuto problemi di cuore quando dicevi questa cosa alla età non so che anni avevi la prima volta è successo ai 22 anni e no guarda mi fa scoppiare il cuore perché fa sempre così fa sempre di testa tua non è possibile non avrai mai un posto sicuro un lavoro sicuro insomma un po' un po' le cose che ci sentiamo dire molto spesso ecco vabbè sì 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 capisco benissimo e quindi hai passato hai detto due lavori dipendenti sono di commercialisti diversi dicevi sì no diversi perché in realtà in tre anni e mezzo ho cambiato cinque studi ho cambiato cinque lavori in realtà quindi sì sono stati parecchi e nel frattempo come hai detto non riuscivo a stare fermo nel frattempo ho fatto un percorso di tre anni su youtube quindi praticamente lavoravo di giorno la sera arrivavo a casa registravo i video per youtube all'epoca facevo recensioni di gameplay per smartphone quindi solo nella nicchia di giochi per smartphone una cosa particolare che dopo tre anni ho abbandonato perché ovviamente i risultati non erano quelli sperati ecco c'era già l'iphone quando facevi queste queste recensioni sì sì dal le ho fatte dal 2014 al 2017 ah ok quindi insomma sì 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 ecco e poi in realtà cos'è successo mi sono preso qualche mese sabbatico per capire che cosa volevo fare nella mia vita che cosa ero chiamato a fare perché una cosa che mi ha sempre accompagnato da piccolo è che io ho sempre sentito e saputo dentro di me che sarei stato chiamato a fare qualcosa di grande nella mia vita cioè non sarei stato in grado di fare qualcosa di semplice e ecco perché dopo appunto i tre anni e mezzo da lavoro di dipendente non era il lavoro che non o l'ambiente che non faceva per me ero io che non sono tagliato per fare il dipendente prendere ordini da qualcun altro punto collaborare sì ma darmi ordini no scusa se ti interrompo avevi sempre qualcuno sopra che ti diceva praticamente quello che dovevi fare esattamente sì quindi sempre qualcuno che ti dice cosa fare e se avessi avuto invece più libertà pensi che la storia sarebbe stata la stessa oppure allora adesso adesso te lo dico sarebbe stata la stessa ok perché perché ci arriviamo in realtà che cosa succede mi prendo qualche mese sabbatico per capire cosa fare nel frattempo a una festa di laurea rivedo un vecchio amico di paese che non vedevo da qualche anno e lui laureato in cinema a Venezia e quindi qua iniziamo ad entrare in questo mondo però all'epoca era videomaker giustamente si stava costruendo la sua gavetta aveva la sua la sua società e iniziavano un attimino a crescere e mi ha detto Michele conosci qualcuno che magari sa fare montaggi video perché io sono pieno di lavoro sono sempre fuori a registrare ma non ho tempo poi di mettermi in studio a montare quello che registro e io gli ho detto guarda amatorialmente siccome ho fatto l'esperienza su youtube so fare montaggi video ma è ovvio che non saranno come quello di cui tu hai bisogno beh 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 mi fa nessun problema vieni in studio proviamo un mesetto vediamo come va e poi decidiamo cosa fare insomma provo un mesetto mi spiega quattro cose e vediamo che comunque riprendiamo la vecchia amicizia c'è intesa ci troviamo bene si lavora bene quindi decido di entrare in società con lui qua stiamo parlando di maggio 2017 ma avete aperto una nuova società o lui ce l'aveva già no lui ce l'aveva già lui ce l'aveva già aveva già la sua società sono entrato io come ulteriore socio insomma quindi eravamo in due e lui in realtà mi ha insegnato poi anche tutto quello che c'era da sapere anche sul campo quindi mi ha trasferito tutte le sue competenze che sia sul campo che comunque all'università aveva imparato mi ha proprio letteralmente formato sul campo e da lì piano piano in un anno e mezzo io mi sono ritrovato su veri set cinematografici quindi comunque a lavorare per produzioni come Rai Handable Sky e poi tante altre produzioni di film indipendenti quindi cioè in un anno e mezzo sai da fare videomaking piccole cose aziendali così ti ritrovi nel mondo del cinema dove sul set in un giorno girano cento centocinquanta persone cioè è un bel salto è una bella soddisfazione e quindi insomma porto avanti il mondo del cinema per tre anni ok dal 2017 ti occupavi di film? adesso adesso ti dico porto avanti fino dal 2017 fino a fine 2019 e sì comunque sì erano o film o fiction serie tv insomma ok erano queste due cose che comunque si parla già a livello di cinema ecco e quindi o erano produzioni nostre o indipendenti o comunque arrivavano i pezzi grossi e che quindi ti prendevano come locale il concetto è quello dovevano girare più o meno eravamo arrivati che noi eravamo i punti di riferimento tutt'ora lo siamo per il nord Italia quindi quando una sì 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 quando una produzione deve arrivare Milano Verona Venezia Torino Bologna quello che è sanno che chiamano noi perché insomma non ci sono non ci sono persone più competenti ecco poi cosa dire ho continuato ho continuato a fare quello per tre anni e nel mentre ho fatto altro però adesso come sempre adesso adesso te lo dico e ci arrivo il fatto qual è voglio rimanere sul mondo del cinema perché comunque fin tanto che le produzioni erano nostre si cresceva si andava forte si andava avanti sai sei tu che gestisci la situazione sei tu che gestisci tutta la mole di lavoro il traffico la società è tua quindi insomma ci tieni a fare in modo di fatturare di crescere e quindi ti senti coinvolto ti senti preso la gestisci tu ed è una cosa molto molto bella quando invece poi iniziano ad arrivare le produzioni grossi e tu sei un'altra pedina di questa grande macchina e iniziano a darti ordini iniziano a pressarti iniziano quello è effettivamente quello che poi è successo che non sentivo più il cinema il mio mondo non lo sentivo più mio sia da una parte personale professionale sia poi anche anche per il fatto che iniziavo a risentirmi come nella vita da dipendente le produzioni nostre erano sempre meno ed eravamo invece sempre più impregnati in produzioni di altre case cinematografiche ecco quindi mi stava tornando quella pressione capito del fai questo fai quello ma com'è che funzionava scusa la domanda da ignorante nel campo com'è che funzionava una casa più grande vi dava vi attribuiva una parte delle registrazioni no no sei stipendiato cioè c'è un budget ogni giorno guadagni tot e loro ti chiamano in base al lavoro che c'è da fare il concetto è quello sei fisso e a chiamata allo stesso tempo insomma ho capito e quindi è tutto prestabilito per budget e nelle produzioni medio piccole quindi quando si parlava di meno di 30 persone sul set più o meno o a volte ho fatto il cameraman o ero assistente regia o comunque ero insomma tra le figure più importanti del set quando invece arrivavano i colossi ciao ero il locale che faceva da supporto capito quindi dalla parte di comunque era figo però dalla parte di gestione comparsa cercare le figurazioni gestirle sul set una parte magari un po' più amministrativa contrattuale quindi insomma questi erano un po' i ruoli che ho fatto diciamo che a 360 gradi le ho provate un po' tutte anche nel mondo del cinema ecco hai avuto hai avuto un sacco di diciamo di competenze hai imparato durante tutto questo periodo nel cinema perché non è che ti sei focalizzato solo su una parte del cinema tipo camera come dicevi te hai fatto tutto praticamente quindi immagino che tutto questo pacchetto di competenze sia stato utile poi per i tuoi prossimi passi esattamente esattamente prima di arrivare ai prossimi passi però appunto ci tenevo a dire che durante i tre anni di cinema non riuscivo a stare fermo e quindi che cosa ho fatto innanzitutto tre anni di network marketing quindi anche quella un'esperienza molto molto importante che mi ha forgiato ringrazierò sempre il network perché dal mio punto di vista è quel tipo di attività abbastanza imprenditoriale che inizia a metterti nel mondo imprenditoriale diverso da quello che stavo vivendo nel cinema però con un budget ridicolo cioè con un budget che chiunque può permettersi quindi è stata veramente una bella esperienza durata tre anni e ringrazierò sempre il network perché poi ti affaccia anche e non solo da una parte al mondo di crescita personale e di mindset ma dall'altra entri anche a contatto con pezzi grossi del tipo di azienda che scegli dei tuoi leader di riferimento che comunque guadagnano 5, 10, 20, 30 mila euro al mese e quindi sai insomma ti passano delle informazioni di crescita di mindset che poi ti porti dietro tutta la vita e quelle non te le toglierà mai nessuno e nel frattempo sai tra cinema e network marketing che cosa fai? Devi posizionarti farti riconoscere nel mercato e cercare nuovi clienti distributori quale miglior strumento se non i social? Ah adesso torna tutto ho capito esatto che è nata questa cosa esattamente e quindi praticamente pensavo fossi già uscito dal network quando hai iniziato i social in realtà no perché era fine 2017 e ho detto ok i social saranno una fetta importantissima nel mercato in qualunque mercato da lì ai prossimi due o tre anni così si è verificato e quindi non volevo usarli alla Carlona capiamoci volevo usarli in modo serio e professionale e quindi che cosa ho fatto? ho iniziato a frequentare corsi dal vivo di social media manager agenzie esperti di marketing di comunicazione perché social è anche comunicare parlare esprimersi video insomma lo vediamo lo sappiamo e quindi iniziare a frequentare corsi dal vivo eventi dal vivo e anche qualche corso online che ho acquistato ecco niente di così eclatante però anche perché all'epoca non avevo poi così tanti soldi perché piano piano in realtà me li stavo mangiando poi se vuoi parliamo anche di soldi dopo insomma fattore economico adesso lo stiamo saltando comunque comunque ecco iniziai a formarmi sui social e da una parte tutti che ti dicono la loro campana e non sai mai chi ascoltare e dall'altra che io ho detto perfetto questo dice A e io provo A questo dice B provo B questo dice C provo C perfetto io ho creato D la soluzione perfetta per capito e quindi testavo quello che che imparavo e vedevo cosa poi realmente funzionava cosa no e addirittura lo rendevo migliore rendevo riuscivo ad amplificare le strategie che imparavo e e quindi insomma dai creare il mio funnel il mio sito perché poi ho imparato poi effettivamente anche mi sono messo lì non potevo investire soldi in altre persone che lavorassero per me e quindi ho imparato tutto da solo e quindi fare funnel email marketing Zapier integrazioni tra diverse app diversi siti tante cose ecco tu scusa se ti interrompo tu adesso stai parlando di tutta una serie di cose che molte persone magari non le associa ai social che uno una persona normale magari pensa al social come un social network tu invece stai parlando di tutta una serie di chiamiamole pratiche del marketing strumenti strumenti del marketing digitale giustamente quindi il tuo dire social in realtà è un modo di dire vendita ma vendita online correggimi per me per me sono le due cose che si incastrano in un matrimonio perfetto da una parte hai il social che è lo strumento che ti permette di avere visibilità e portare traffico portarlo dove dove tu vuoi quindi portarlo negli strumenti digitali e di marketing digitale unendo le due cose crei un matrimonio perfetto ecco perché imparavo e studiavo entrambe le cose e quindi praticamente non vivevo perché cinema network marketing e social e digital marketing non ti dico non ti dico però cosa accade poi accade che fine 2019 quindi inizio 2020 proprio insomma lì capodanno per capirci il cinema non lo sento più mio e decido di lasciare l'azienda che nel frattempo i vecchi soci insomma vanno avanti tutto quanto improvvisamente sono contento per loro però sì cioè no glielo ho detto guarda troviamoci sentiamoci gli ho detto per me da qua fin qua cinema non lo sento più mio ha capito perfettamente il socio quindi insomma ci siamo ci siamo lasciati in amicizia molto spesso anzi sono andato anche settimana scorsa a ritrovarlo a vederlo a bere un caffè insieme quindi c'è l'amicizia c'è sempre assolutamente il network marketing dopo tre anni non funzionava nel senso che o io non ero in grado o non avevo le competenze o non riuscivo a convertire nuovi distributori insomma ti sto dicendo tante cose che riconoscevo che non funzionavano e quindi ovviamente ero anch'io che probabilmente non ero portato a fare network marketing il concetto è quello ci ho messo a tre anni a capirlo ma insomma ecco e quindi c'è chi lavora tutta una vita e non fa nulla quindi meglio tre anni esatto 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 e quindi cosa succede? succede che a gennaio dico vabbè prendiamoci ancora quei famosi uno due o tre mesi per capire all'età di 27 anni che cacchio fare nella mia vita ok cioè ero ancora lì il concetto era questo cosa succede? boom scoppia la pandemia scoppia la pandemia e non vedevo altre soluzioni se non lavorare online è stato palese nel frattempo mi sono sempre formato ho guardato webinar di altre persone non avevo soldi quindi non potevo acquistare i loro corsi però guardavo i webinar perché ti danno spunti novità perplessità ti fanno riflettere su tante cose oppure qualche libro sì così però o cercare online quindi video su youtube mi sono sempre tenuto in movimento sotto l'ambito formativo finché guardando un webinar mi si accende la lampadina e da una parte dico ma queste competenze sui social che all'epoca stavo sviluppando da tre anni ma posso venderla a qualcuno? c'è un mercato? e dall'altra però mi sono detto che cosa vendo? perché fare social media manager uno il mercato era saturo e due il cliente sarebbe diventato il mio capo vero quindi perché è lui che ti dice cosa fare tu devi solo farlo e quindi ho detto social media manager no assolutamente no e mi sono detto ma scusa un formatore insegnante coach per i social esiste perché sì c'era già qualcuno che ad esempio un Daro Vignali che ti fa il corsino ti fa il corsetto Instagram sì vabbè ma per 60-90 euro cosa vuoi che informazioni vuoi che ti dia sono le stesse che ti dà nei video gratuiti su YouTube condite in modo diverso e quindi e quindi a parte qualche corso ho detto formatori non ce ne sono quindi le opzioni sono due perché non ci sono formatori o perché il mercato non ne ha bisogno qualcuno ci ha già provato e non funziona o perché nessuno ci ha mai pensato giusto tu stai dando una lezione di business oggi che secondo me potremmo mettere questa live a pagamento adesso magari molti che entrano in questo mondo o non sono mai entrati in questo mondo non capiscono il valore che ci ha appena dato Michele cioè banalmente dire cosa posso fare per guadagnare di più lui inconsciamente ha sviluppato una competenza e ha capito se c'è un mercato che è il modo per creare un business sì esatto giustamente esatto esatto è stato proprio così inconsciamente ho sviluppato questa cosa è stato pazzesco e e quindi insomma ho iniziato a trasformare i miei profili social che all'epoca erano Instagram Facebook e LinkedIn quelli avevo ho iniziato a trasformarli iniziando a dare competenze soprattutto conoscevo bene Instagram quindi ho iniziato a dare fare video post IGTV per dare consigli come usarlo al meglio e dall'altra parte anche su LinkedIn Facebook qualcosina ma anche poi ho abbandonato e e quindi ho visto che effettivamente già dopo due settimane avevo venduto la mia prima consulenza al fantastico prezzo di 10 euro ok il primo guadagno online non si dimentica esatto esatto per me sai già quei soli 10 euro non era un guadagno che ti cambia la vita ma era il primo messaggio che ti fa dire ok posso farcela perché ci sono persone che sono disposte a pagare per una mia consulenza non importa quanto costi la mia consulenza o quanto siano disposte a pagare ma sono disposte a pagare da lì ho iniziato a fare le prime consulenze Instagram ho iniziato a aumentare i prezzi e nel frattempo appunto scopro TikTok quindi studio TikTok tutto quanto lo evolvo e stavo già iniziando pensa te a creare quello che era un mio progetto la mia community ok e perché ho detto non mi basta solo vendere corsi o comunque fare consulenze ma io voglio veramente avere un impatto sul mondo online sui social e sulle persone perché voglio che le persone utilizzino il mondo dei social in modo molto più consapevole perché non è solo meme cazzate ridere stronzate e prendiamoci in giro è molto di più anche banalmente un datore di lavoro se deve assumerti la prima cosa che fa è guarda il tuo profilo e se vede che ci sono anche se vuoi fare il dipendente è la prima cosa che guardano sì quando iniziavo a vendere le prime consulenze si era tra una delle cose che dicevo anche se sei indipendente cura i tuoi social anche un minimo perché guardano i social punto non c'è storia sono una grossa parte del tuo curriculum non ci fai niente molto spesso addirittura alcune aziende prima di chiederti il curriculum ti chiedono il link dei tuoi social alcune aziende questo è pazzesco e quindi avevo iniziato a costruire il mio progetto sì vi do lezioni registrate community quant'altro supporto gruppo insomma una cosa abbastanza nuova rivoluzionaria sotto questo punto di vista e la stavo costruendo per Instagram perché ovviamente era lì dove vendevo consulenze era lì che ero molto più esperto ok quindi inizio a lavorare a registrare video iniziare a costruire la piattaforma insomma passano tipo due mesi dove stavo lavorando a questa cosa nel frattempo che stavo anche studiando TikTok e all'epoca più o meno con le consulenze facevo due o trecento euro al mese cioè riuscivo a guadagnare due o trecento euro al mese ok dalle consulenze che facevo quindi non erano ste grandi cifre però sai sono quelle cifre che quantomeno hai un po' di indipendenza dai genitori hai un po' di indipendenza riesci a coprirti le spese sopravvivi quantomeno il concetto è quello certo e poi cosa succede TikTok lo faccio evolvere apro profilo insomma in cinque settimane mi ritrovo diecimila follower su TikTok ok secondo te cosa ho fatto? tutto all in su TikTok ovvio cioè i due mesi che stavo lavorando su Instagram parcheggiati inizia a produrre per TikTok quindi ho rivoluzionato l'idea era la stessa è solo che l'ho rifatta per TikTok quindi ho lavorato due mesi e mezzo testa bassa cioè la mia estate 2020 è stata a casa registra produci lavora sono tipo uscito un giorno al lago un attimino stacchiamo andiamo un attimo in spiaggia mi rilasso perché ero veramente presissimo cioè io avevo lavorato dieci ore anche il giorno di ferragosto rendiamoci conto ok per capirci per capirci il giorno del mio compleanno avevo lavorato comunque due ore quindi ecco ecco e finché poi insomma arrivo e lancio il mio progetto su TikTok che appunto come vedi qua TikTok Master TikTok Master esatto quando ci siamo conosciuti improvvisamente ci siamo conosciuti anche lì esatto esatto su TikTok si è arrivato anche tu ci siamo conosciuti esatto e quindi esatto e questa è stata tutta un po' la mia storia e la mia evoluzione ovviamente e poi è diventato TikTok Master esatto esatto pensa che io addirittura quando avevo già costruito TikTok Master ok io fino al giorno prima del lancio non sapevo come lo avrei chiamato cioè i video registrati era tutto pronto il sito pronto tutto pronto ma non sapevo come l'avrei chiamato il giorno prima mi arriva l'illuminazione TikTok Master quindi fai due grafiche sparale nel sito a posto via partiamo in vendita anche questa è una cosa geniale perché la maggior parte delle persone magari si ferma perché dice che nome gli do al mio progetto e bloccano tutto un processo mentre tu non ti sei bloccato faccio poi ci penso sì poi ci penso cioè non posso star lì non posso star lì a perdere tempo a pensare a cose che sì poi sono importanti attenzione non bisogna sottovalutarle però non posso fermarmi adesso per una cosa che posso trovare o fermarmici a pensare in un secondo momento tanto finché non vendi nessuno vede niente quindi non sa niente la gente e il concetto è questo e insomma e quindi poi TikTok Master mi ha permesso di svoltare anche la mia vita a livello professionale ed economico insomma ecco questo è quanto penso che TikTok abbia rivoluzionato la vita di molte persone a partire dal 2020 assolutamente sì posso non fermarlo eh penso anche la tua o no e senti un po' volevo chiederti una cosa dato che hai parlato di problemi hai accennato il fatto dei soldi che magari mancavano all'inizio e quindi voglio voglio legarmi a questo concetto del degli ostacoli che hai avuto in tutto questo percorso diciamo principalmente nel percorso di TikTok nel lancio della tua azienda TikTok Master qual è stato secondo te l'ostacolo più grande che possono essere soldi o quello che diciamo quello che più ti ha ostacolato e com'è che l'hai risolto ma in realtà non sono stati i soldi l'ostacolo più grande perché anzi cioè io ho costruito tutto quanto con soli 40 euro quindi quindi chi ascolta non avete scuse non ci sono non ci sono scuse ci sono un botto di strumenti gratuiti che sono spettacolari poi mi sono evoluto ho iniziato quando ho iniziato a guadagnare sono passato a strumenti più costosi che mi danno più servizi più vantaggi ma per iniziare non vi serve niente punto si può partire anche a gratis l'ostacolo quindi escludendo l'ostacolo economico in realtà non penso ci siano stati grossi ostacoli forse magari un 10 15 giorni nel mese di agosto dove sono andato personalmente in burnout quindi letteralmente lì non riuscivo a lavorare non riuscivo a essere produttivo arrivavo a sera che se pensavo di aver fatto al mondo guardavo avevo fatto quattro acche lì a livello personale è stato un grosso ostacolo in burnout infatti avevo dovuto prendere quella giornata di andare in spiaggia al lago a rilassarmi per recuperare un po' le energie penso che il lavorare troppo e andare in burnout sia uno dei problemi più grandi degli imprenditori che iniziano anche da poco perché vogliono fare tutto si aspettano di ottenere tutto subito e anche io sono uno di quelli però è tutto è un processo e quindi però all'inizio capisco che sia molto difficile passare questa fase di burnout ma l'importante è averla passata perché in molti si bloccano lì e fanno un passo indietro esatto esatto per chi non lo sa il burnout che cos'è quando tu arrivi stremato dalle forze e non hai proprio più neanche la voglia o la forza di fare niente cioè non fai letteralmente niente dalla mattina alla sera sei completamente scarico quello è il burnout e molti di noi l'avranno vissuto in diversi ambiti settori o momenti periodi della nostra vita e quello è stato un bello ostacolo ecco è anche una patologia se vogliamo chiamarla riconosciuta in campo medico da quanto ho sentito dire non è solo un detto in teoria è anche riconosciuta quindi occhio ragazzi non lavorate troppo e anche bene rilassarsi di tanto sì ci vuole il giusto equilibrio il giusto equilibrio corretto sì e durante tutto questo percorso che ci hai raccontato hai citato moltissime risorse cioè non le hai citate però hai detto ho fatto questo corso ho fatto questo webinar o non hai detto nulla sui libri non lo so io volevo chiederti quali sono state secondo te fai un massimo di 3-4 risorse che ti hanno portato da il Michele Del Monte dipendente a Michele Del Monte a imprenditore di TikTok Master allora le prime risorse che mi hanno portato qui sono state io stesso e dentro di me cioè quel quella vocazione a sentirsi di essere chiamato a fare qualcosa di grande nella vita quindi la continua ricerca quella arriva dentro di me e sicuramente molti di voi ce l'avranno e invece a livello strumentale a livello pratico al di là di tutto questo libri in realtà io ho sempre comprato libri di crescita personale e sì ad esempio i segreti delle elementi milionarie insomma TR Becker per gestire i soldi la finanza quello lì classico esatto però ad esempio un padre ricco padre povero non l'ho mai letto l'ho mai comprato giusto per intenderci ok cioè per farvi capire io sono sempre stato un po' più sulla crescita personale sotto quel punto di vista invece online di tutto e di più non c'è un qualcosa che realmente mi ha mi ha fatto svoltare webinar di Federico Pistono ad esempio piuttosto che Mic Cosentino piuttosto che Big Luca piuttosto che insomma anche pezzi grossi gente importante del mondo online però mi fermavo il webinar e poi non potevo permettermi quello che avevano da offrire e quindi però sai già dai webinar è comunque contenuto gratuito è contenuto molto utile che aiuta per chi magari non è diciamo è nuovo in questo mondo e non sa bene come funziona la crescita personale e magari circondato da persone depotenzianti avere anche soltanto ascoltare questi webinar anche se non non si ha non si hanno i soldi per poi acquistare il corso o quant'altro o seguire tutti i contenuti gratuiti di alcuni divulgatori fa molto fa molto anche semplicemente ascoltare queste queste interviste fa molto per chi parte da zero quindi condivido pieno il tuo il tuo approccio e le risorse che hai usato tanti video su youtube da lo zio monti insomma per capirci che tra l'altro non so perché ma mi ha bloccato su tiktok quando ero ancora gli inizi non diciamoglielo sì non lo so tagliamo questa parte no vabbè vabbè teniamola pure però no insomma comunque lo zio monti mi ha sempre ispirato è sempre stato per me un modello di riferimento e da molti spunti sul business in generale o le sue interviste che fa piuttosto che tanti video appunto di persone che ti danno tutorial consigli su come fare determinate cose piuttosto che altre io sono un consumatore di video io sono un consumatore di video veramente cioè libri guarda due quattro sei otto dodici libri ho la di cui sette letti e cinque che io li ho già comprati in previsione di leggerli ma per farti capire cioè ecco hai capito hai capito perché dall'altra non sono mai stato un grande lettore mi sto appassionando nell'ultimo anno e mezzo sto capendo piano piano l'importanza di leggere però dall'altra parte sono sempre stato un grande fruttore di video e quello è la parte che ha sempre compensato la mia fase di sviluppo personale ecco quindi spartiamo il mito che per diventare imprenditori bisogna leggere cinque libri a settimana perché ogni tanto vedo dei video di tiktok io pratico la lettura veloce ma a volte vedo video dove dicono come leggere cinque libri una settimana per diventare il prossimo Elon Musk spartiamo questo mito esatto esatto spartiamo il mito no l'importante è veramente attingere da altre persone che prima di te ce l'hanno già fatta sia nel tuo settore sia in altri settori perché comunque ci sono tanti spunti da cui poter imparare tantissimi tantissimi un'altra cosa perdonami concludo un'altra cosa che mi ha aiutato mondo il mondo del network marketing per quanto riguarda il mindset l'avvicinanza ai top leader aziendali sai che guadagnano tanto quello ti ti tempra ti forma a livello di mindset quindi l'avvicinanza la prossimità con persone che già ce l'hanno fatta quello è stato per me un altro tassello importante quindi non sono stato tanto gli strumenti libri corsi di chi ho acquistato frequentato ma più che altro l'avvicinanza o il consumare contenuti quello la mia voglia di scoperta e di curiosità capito e quanto è stato importante il network in tutto questo perché tutti vedono Michele De Monte davanti a uno schermo di TikTok ma evidentemente dietro c'è qualcos'altro o ci sei solo tu dietro tutto questo dietro tutta questa azienda allora no beh adesso all'interno della mia azienda che mi supporta c'è anche Flavio Di Filippo un altro esperto di TikTok che ho conosciuto su TikTok proprio e subito ancora prima di lanciare lo avevo già coinvolto in TikTok Master gli ho detto guarda tra due settimane lancio ti va di esserci funziona così e poi anche anche Sharon Sharon Neshika una ragazza molto molto in gamba anche lei social media strategist che ci dà supporto e una mano per gestire la community e il supporto a tutti i membri iscritti e devo dire che in realtà il network inizia a diventare fondamentale per me negli ultimi 4-5 mesi della mia vita perché prima non è stato tanto il network quanto l'assimilare competenze quindi sì l'entrare in contatto con persone quello che ho detto fino ad adesso è stato importante ma per acquisire competenze non tanto per avere network per sviluppare con altre persone nuovi progetti adesso lo sto facendo che sono già avviato già la mia azienda e tutto quanto adesso come anche te con Ale insomma ci siamo conosciuti siamo qua a questa intervista quindi è negli ultimi appunto 4-5 mesi che sto creando network ne vedo l'importanza inizio a viverla realmente prima in realtà sono sempre stato un lupo solitario ok perfetto perfetto siamo quasi al termine di questa intervista quindi ti chiederei addirittura sì si sono già fatti 42 minuti quindi volevo chiedere se un ascoltatore volesse contattarti entrare in contatto con la tua azienda cosa dovrebbe fare ok allora beh o va sul mio profilo tiktok michele demonte mi trovate e magari cliccate sull'icona di instagram così andate al mio instagram e mi iscrivete in privato se volete anche se è un po' meccanico altrimenti c'è il mio sito quindi il mio sito dove propongo tiktok master e comunque nel footer in fondo al sito ci sono tutti i dati di riferimento come si chiama il sito c'è anche la mia email lo trovate semplicemente con socialaddicted.net ok eventualmente lo scriveremo sotto esatto eventualmente anche se andate su google e scrivete tiktok master comunque il quarto o il quinto la quinta voce sito che vi propone è il mio è proprio socialaddicted.net è il mio sito quindi non potete che gli altri sono inglesi magari uno è inglese uno è italiano ma di un blog che non è più attivo da un anno ormai quindi tra un po' scompariranno e troveremo soltanto il tuo sito perfetto sì assolutamente perfetto benissimo allora volevo chiederti ci sono domande che avresti voluto che io ti facessi in particolare ma in realtà non avevo nessuna aspettativa ero qui ero qui proprio per dare il mio contributo e parlare della mia esperienza quindi allora ti faccio una domanda segreta dato che quando si parla di imprenditoria successo ricchezza generalmente c'è un concetto che viene considerato l'antitesi della ricchezza ma in realtà non è così volevo chiedere a te Michele De Monte oggi tu sei felice? sì perché? perché ho il tempo di gestire la vita come voglio e prendermi le libertà che voglio perfetto questo questo perfetto allora grazie Michele De Monte per essere stato qua ospite e grazie a tutti gli ascoltatori e ci vediamo a una prossima alla prossima puntata di Little Maker ciao grazie mille a te Alessandro ciao ciao